Mercedes Enger e Gianluca Ginobled e il volo insieme? Mercedes Enger e Gianluca Ginobled e il volo insieme? Parla lei Mercedes Enger sono fidanzati? Lei smentisce. Mercedes Enger e Gianluca Ginobled sono stati paparazzati di nuovo insieme, le nuove foto dei due li hanno ritratti davanti ad un bel bicchiere di vino e addirittura in uno scatto la bionda showgirl e il cantante dei volo sembravano molto intimi. Infatti, come potete benissimo vedere dalle immagini che vi abbiamo allegato in fondo all'articolo, Mercedes era molto vicina al suo presunto cavaliere, e gli stava suggerendo qualcosa nell'orecchio. Insomma, i due sono quindi fidanzati? La figlia di Eva Enger ha smentito il gossip attraverso un'intervista che ha rilasciato recentemente al settimanale Eva 3000, in cui ha raccontato nel dettaglio cosa è effettivamente successo tra i due. La giovane Enger ha infatti esordito affermando che lei e Gianluca sono soltanto amici, ogni anno i giornali affibbiano a loro un fidanzato nuovo e non concepisce il meccanismo attraverso cui escono notizie così non veritiere. Inoltre Mercedes ha continuato, dichiarando come sono arrivati due alla cena. Gianluca Ginobled e il volo ama Mercedes Enger? La dichiarazione della donna. Mercedes Enger ha chiarito infatti spiegando che lei e Gianluca Ginobled erano già stati paparazzati insieme lo scorso anno a Milano Marittima, durante l'evento VIP Master, meeting che si è ripetuto anche quest'anno. La Enger e il cantante del volo all'epoca si erano recati in ristorante per parlare tra amici, ma i fotografi non avevano loro risparmiato nulla, i loro atteggiamenti intimi sembravano infatti tradire una certa affinità. Il gossip era poi caduto nell'oblio in quanto lei era fidanzata con il fratello di Manuela Arcuri. Anche durante questa edizione, i due amici hanno voluto fare tappa nel medesimo ristorante, e il risultato della cena sono state le foto che vi abbiamo postato qui sotto. Ma tra e due sembrerebbe esserci soltanto amicizia, la figlia di Eva ha infatti precisato che lei è ora felicemente fidanzata con un personal trainer e modello che ha conosciuto subito dopo la fine della sua relazione con Sergio Arcuri. Inoltre, anche il componente del volo è accompagnato ormai da tempo, Gianluca è fidanzato con uno studentessa, e preserva con gelosia la sua relazione dagli occhi indiscreti delle telecamere, evitando di caricare foto troppo compromettenti anche sui social. Mercedes Enger dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi è più volte apparsa in tv a domenica live e pomeriggio 5 in qualità di opinionista, mentre Gianluca e gli altri componenti del volo sono molto impegnati con i loro concerti in America. Grazie a tutti.